direttamente dalla storica sala dei monopoli di stato di piazza mastai in roma questa è l'estrazione di super enalotto buonasera e benvenuti all'appuntamento con l'estrazione del super enalotto oggi martedì 22 febbraio il jackpot ha raggiunto la cifra di 160 milioni 209 mila 422 euro il più alto al mondo le 90 sfere numerate sono state caricate nella prima urna e con l'autorizzazione della commissione di controllo diamo ora il via l'estrazione del concorso numero 23 inizia il mescolamento automatico delle sfere stiamo per scoprire i sei numeri vincenti più un numero jolly tenete strette le vostre ricevute è in arrivo il primo numero ed il primo numero estratto è il numero 64 siamo al secondo numero con super enalotto si inizia già a vincere ed il secondo numero estratto è il numero 15 il terzo numero sta arrivando ed il terzo numero estratto è il numero 74 pronti per il quarto numero il quarto numero estratto è il numero 9 e adesso scopriamo il quinto numero che apre le porte alle grandi vincite e il quinto numero estratto è il numero 59 è il momento di incrociare le dita stiamo per completare la sestina vincente ed il sesto numero estratto è il numero 29 dopo i sei numeri che assegnano il jackpot passiamo ora all'estrazione del numero jolly vi ricordo che indovinando questo numero insieme a cinque numeri della sestina vincente potrete realizzare la grande vincita del 5 più 1 e il numero jolly di questa sera è il numero 22 controlliamo insieme la sestina vincente in ordine di estrazione e il numero jolly 64 15 74 9 59 29 numero jolly 22 e ora passiamo al numero superstar superstar è il numero che ciascuno di voi può scegliere o che viene assegnato casualmente al momento della giocata la sua estrazione avviene grazie a questa seconda urna elettronica caricata con le sfere da 1 a 90 e procediamo con l'ultima estrazione di questa sera vi ricordo che indovinando il numero superstar si vince sempre sì perché superstar moltiplica le vincite super in all'otto fino a 100 volte e premiamo anche lo 0 e l'1 le sfere stanno ruotando nell'urna pronti? eccolo il numero superstar di questa sera è il numero 16 ricontrolliamo tutti i numeri estratti del concorso numero 23 con la sestina vincente in ordine crescente 9 15 29 59 64 74 numero jolly 22 numero superstar 16 l'estrazione di oggi martedì 22 febbraio termina qui diamo il tempo di verificare tutte le giocate e ci rivediamo tra poco per scoprire se il jackpot di oltre 160 milioni 200 mila euro è stato centrato da qualche fortunato giocatore ben ritrovati poco fa abbiamo estratto i numeri vincenti del concorso numero 23 siete pronti a scoprire le vincite di questa sera questa estrazione del super in allotto assegna 480 mila 65 vincite vi ricordo che il jackpot in palio è di oltre 160 milioni 200 mila euro il più alto al mondo sarà stato centrato il 6 questa sera il 6 di super in allotto non è stato realizzato e il jackpot cresce ancora per arrivare a 161 milioni 600 mila euro vediamo adesso nel dettaglio tutte le vincite e le relative quote nessun 5 più 1 i 5 sono 15 e vincono 14.236 euro ciascuno i 4 sono 816 e vincono 266 euro ciascuno i 3 sono 28.201 e vincono 23 euro ciascuno e i 2 sono 404.799 e vincono 5 euro ciascuno ed in questo concorso sono state assegnate ben 344.592 vincite immediate winbox scopriamo adesso insieme vincite e premi superstar nessun 5 stella i 4 stella sono 4 e vincono 26.689 euro ciascuno i 3 stella sono 148 e vincono 2322 euro ciascuno 100 euro vanno ai 2076 due stella 10 euro ai 13.897 uno stella e 5 euro ai 30.109 zero stella inoltre 120 vincite da 50 euro ciascuna e 18.094 vincite da 3 euro ciascuna sono assegnate alle incombinazioni non vincenti vi ringrazio per essere stati con noi Super Enalotto vi dà appuntamento a giovedì 24 febbraio giocheremo per un jackpot di 161 milioni e 600 mila euro arrivederci Grazie a tutti Grazie a tutti